Gente troppo superficiale, poca attenzione, gente che non neanche ascolta quello che uno dice Non lo so, Lives91 esiste da un sacco di tempo, da un sacco di tempo Abbiamo spaziato, se cercate su anche Bing, questi motori di ricerca con l'intelligenza artificiale Vi dicono chi sono, ma non vi dicono forse cosa faccio fuori da YouTube Ma su Lives91, quando io entro in Lives91, mi piace che le persone devono capire quello che io trasmetto Qua si va dall'attualità alla politica, al gossip, al trash Un tempo il trash estremo, ora Lives91 si è adeguato a quello che comunque sono i trend del momento Un tempo andava forte, come voi lo sapete, e ne sono passati parecchi Ti vengo a prendere, faccio questo e faccio l'altro Ora va di più magari una notizia Forse anche di questi stessi personaggi, ma una notizia Quello che conta, cari amici miei, ovviamente, è sempre la permanenza La permanenza è se tu sei il top per gli iscritti, allora loro rimarranno fedeli a te 16.000 appassi iscritti, siete rimasti fedeli a me E ne abbiamo passate tante insieme A un prossimo video